Se osservi le scienze come le conosciamo oggi sono piene di spiegazioni ma mai e poi mai trattano l'aspetto più fondamentale della creazione in alcun modo spiegazioni per quello che è già lì e quelle spiegazioni continuano a cambiare ogni cinque anni e un nuovo gruppo di persone otterrà il premio Nobel non sto cercando di ridicolizzare la scienza nel suo insieme è un'esplorazione fantastica, non ci sono dubbi al riguardo oggi i migliori scienziati al mondo hanno pienamente realizzato che questa non è la via dicono apertamente che non è solo che non sappiamo non sapremo mai ma conoscere dei dettagli della creazione stessa porterà enormi benefici all'umanità non ci sono dubbi in merito ma beneficio a una generazione ed estinzione alle generazioni future un beneficio molto miope vedrai nei Purana Mahabharata e Ramayan vengono sotto la cultura Purana vedrai vivide descrizioni di armi che assomigliano alle armi moderne di oggi non possono semplicemente aver inventato qualcosa che non esisteva il cui concetto non esisteva alcuni secoli fa e sarai stupito Robert Oppenheimer che è considerato il padre degli armamenti nucleari moderni quando la prima arma atomica fu testata negli Stati Uniti allo Salamos prese un passaggio di Krishna dalla Bhagavad Gita e disse quando Krishna parlò di questo disse quando mille soli esplodono nel cielo io verrò come morte e scuoterò il mondo quindi prese questo passaggio e lo usò come descrizione per il primo test nucleare che accadde negli Stati Uniti perché la stessa cosa fu detta circa 5.000 anni fa da Krishna quindi dico questo perché questi aspetti della scienza fisica sono stati esplorati e sono stati scartati non sono la via per l'umanità se percorri per questa via questa è la via della distruzione non è la via da percorrere quindi hanno trasformato tutto questo in una dimensione mistica dove un essere umano può espandersi ed esplorare illimitatamente senza arrecare alcun danno a nulla intorno a sé senza disturbare alcuna vita puoi comunque esplorare il cosmo potresti comunque conoscere ogni cosa e il desiderio fondamentale all'interno di un essere umano è che vuole espandersi come lo fa è l'unica domanda o con la conquista o con l'inclusione in che modo lo fa è l'unica domanda ma un essere umano non può essere tenuto qui senza espansione quindi quando parliamo di dimensioni mistiche stiamo parlando di osservare la vita esplorare la vita in una direzione, in una dimensione del tutto diversa questo richiede un certo ribaltamento di ogni cosa che hai fatto in quanto vita se dico la tua vita immediatamente penserai il tuo lavoro il tuo business la tua famiglia il tuo marito tua moglie i tuoi figli i tuoi amici e molte altre cose non è così? pochissime persone solo solo se ti punto una pistola alla testa e dico la tua vita allora capisci cos'è la vita questa non è una festa non è un lavoro non sono soldi non è casa non sono i figli non è questo e quello vita significa questo ciò che crea la vita non è il tuo treno locale che arriva in orario l'aereo che decolla in orario il tuo cellulare che funziona qualcos'altro che accade cliccare sul tuo conto bancario no ciò che fa cadere la vita è solo questo il suolo la pioggia la brezza la montagna l'albero è ciò che batte qui ciò che pulsa dentro ogni cellula in questo corpo e soprattutto l'intelligenza dietro a tutto questo se vogliamo esplorare qualcos'altro allora dobbiamo riorganizzare un po' noi stessi riorganizzare noi stessi potrebbe non essere la nostra idea di divertimento ma voglio che tu sappia una cosa la sola e l'unica cosa che tu lo sappia o meno a cui aspiri è di diventare qualcosa in più rispetto a ciò che sei adesso non diventerai mai nulla di più di ciò che sei adesso a meno che la tua percezione non venga migliorata aumentando il tuo conto bancario non diventerai di più quello è solo in confronto a qualcuno a meno che tutti non siano un po' più poveri di te non ti sentirai bene ad avere un miliardo di dollari sì o no? supponi che tutti nel mondo abbiano 10 miliardi di dollari e tu hai un miliardo di dollari sei contento? quindi un miliardo di dollari non farà niente è solo il paragone sociale qualunque cosa potresti avere o credi di aver raggiunto nella vita non significerà nulla a meno che non ci sia qualcuno da guardare dall'alto in basso purtroppo per favore vedilo sì o no? l'unica cosa che conterà è che la tua percezione venga migliorata fai esperienza di più vita di quanto ne facessi esperienza ieri per questo non hai bisogno di paragoni con nessuno come qualcuno fa esperienza o non fa esperienza non è nemmeno un problema se fai esperienza di qualcosa in più rispetto a ciò di cui facevi esperienza ieri questo giorno è un giorno benedetto ed è un giorno appagante in definitiva questa è la sola e unica cosa che appaghi un essere umano e nient'altro Iscriviti al nostro canale